Secondo i regolamenti stabiliti dal Consiglio Nazionale Ingegneri è necessaria l'acquisizione di crediti formativi da parte dei professionisti iscritti all'albo. Icotea, accreditata dal Ministero per l'erogazione di corsi specifici con il rilascio di attestati finali, offre a questi professionisti l'acquisizione di competenze in ambiti che oggi si rivelano fondamentali ed in espansione. In particolare, l'offerta comprende un corso per certificatore energetico di edifici Monteore 80, accreditato dal MISE MAT M-MIT ai sensi dell'articolo 2,5 del DPR numero 75 del 2013. In alternativa, per la formazione professionale continua degli ingegneri, è possibile scegliere tra corso coordinatore per la sicurezza, corso aggiornamento coordinatore per la sicurezza, corso RSPP modulo BSP2, corso aggiornamento biennale mediatore conciliatore civile, master sicurezza e gestione ambientale. Gli ingegneri godono di condizioni economiche vantaggiose grazie all'incentivo fornito dal voucher formativo. Per saperne di più vai su www.icotea.it, menu, clicca, percorsi formativi, formazione continua, ordini professionali, vai su formazione ingegneri. www.icotea.it, menu, clicca, percorsi formativi, vai su formazione ingegneri. Grazie a tutti.